Amici di investire.biz, buongiorno e bentornati a Turbo Daily, l'appuntamento con le strategie operative messe in campo con i certificati Turbo emessi da BEMPE Paribas. Sui mercati le grandi protagoniste sono sempre le banche centrali, all'interno di queste banche centrali abbiamo una Federal Reserve che ha stupito in senso restrittivo nelle ultime sedute e che secondo quelle che sono le ultime dichiarazioni arrivate dai principali rappresentanti della Fed continuerà imperterita su questa strada. Diciamo che quello che è l'obiettivo della crescita è stato sacrificato sull'altare del controllo dei prezzi e la Fed non perde occasione per ribadirlo. In questo senso i dati che arriveranno domani dal mercato del lavoro, quelli relativi al tasso di disoccupazione e le payrolls, saranno visti con particolare attenzione per vedere se ci sono i margini e all'inizio di questa settimana i rialzi dei mercati hanno stato attribuiti proprio a questo, se ci sono i margini per un leggero allentamento di quella che è la politica di normalizzazione dei tassi della principale banca centrale del mondo. Le indicazioni arrivate ieri dalla stima ADP, i dati raccolti dalla società privata ADP sull'andamento del settore privato, hanno evidenziato dei numeri leggermente migliori della tese, 208 mila payrolls rispetto a un consenso di 200 mila unità e quindi fanno pensare che anche i dati ufficiali che saranno diffusi dal Dipartimento del Lavoro confermeranno quella che è la forza del mercato del lavoro della prima economia e quindi di conseguenza la forza che questi esercitano sulle retribuzioni statunitensi. Al momento per il tasso di disoccupazione è previsto un dato stabile al 3,7%, mentre le non-payrolls, le buste paga del settore non agricolo, sono viste in riduzione da 315 a 265 mila unità. Dati migliori delle stime non farebbe, finirebbero per avallare la strategia da falco della pedal reserve, mentre indicazioni sotto le stime potrebbero aprire uno spiraglio di un moderato allentamento della tensione. In questa ottica vogliamo investire sull'euro-dollaro. Se andiamo a vedere il grafico del principale cross mondiale, vediamo come nelle ultimi due giorni la soglia dell'unità ha resistito a due attacchi, rispingendo a di sotto di questo livello i prezzi, prezzi che oggi troviamo in positivo, ma noi vogliamo puntare al ribasso sul cambio euro-dollaro con un ingresso a 0,995, uno stop loss fissato a 1,3, quindi al di sopra della soglia dell'unità e un target fissato a 0,965. Si tratta di un rendimento di soli 3 punti percentuali, quindi per alzare il nostro rendimento complessivo punteremo ad utilizzare un prodotto con i turbo certificati di BMP Paribas. Andiamo nella pagina investimentibmpparibas.it dove ci ricordano investimenti in turi seminari esclusivi, il prossimo è previsto a Milano per il 12 ottobre. Andiamo a selezionare Turbo Immuni Future ed andremo a scegliere un prodotto che ci offre una leva particolarmente importante. Abbiamo scelto questo prodotto marchiato NLBNP IT 1,5 Verona Imola 0, che ci offre una leva di 7,63 volte, quindi ci porterebbe un rendimento complessivo di oltre 20 punti percentuali. Prevede uno strac a 1,11,5, quindi al di sopra di quello che è il nostro livello e al momento quota oltre 12 punti percentuali al di sopra del livello di knockout. Quindi con questo prodotto andiamo sulla nostra piattaforma di investimento. Compreremo ai prezzi attuali 800 pezzi, quindi indicativamente per un controvalore di circa 1.000 euro, che appunto con la leva diventano oltre 7.000 euro sul sottostante, ci posizioneremo ad un prezzo leggermente al di sotto di quello che è il livello attuale ed andiamo ad acquistare. Ma volendo ricapitolare questa operazione, abbiamo detto che per investire al ribasso sull'euro dollaro utilizzeremo il Turbo Certificate di BNP Paribas con codice ISIN NLBNP IT, 1,5, Verona Imola 0, e per un ingresso con questo Turbo Certificate di BNP Paribas a 0,995, uno stop loss fissato a 1,03 e un target a 0,965. E quindi anche per oggi è tutto per questa puntata di Turbo Daily, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.